salve a tutti io sono ala e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo video nel quale vi vorrei parlare di una serie ovvero i madoki ai giorni nostri una serie che conta un totale di 5 volumi pubblicata in giappone nel lontano 2000 e arrivata in italia grazie alla defunta purtroppo play press che ci porta un'altra opera di un'autrice che ha già a catalogo ovvero yuwa tase yuwa tase è un'autrice che sicuramente insomma conoscerete anche per altre opere pubblicate in seguito soprattutto da planet delle quali possiamo ricordare a yashino seres la leggenda di arata e anche il fresco fresco di ristampa sakura gari anche se se guardiamo diciamo all'intera produzione sakura gari è un po un outsider rispetto alle altre opere outsider rispetto alla produzione dell'autrice in realtà è anche il nostro i madoki infatti è la stessa autrice a definirsi quasi un po in imbarazzo nel cercare di raccontare una storia di questo tipo questo perché l'autrice è abituata a raccontarci storie romance con spesso dei risvolti molto drammatici ed ambientati all'interno di un contesto sovrannaturale o fantasy peccato che questo i madoki non sia nulla di tutto questo protagonista di questa storia è tampopo una ragazza molto estroversa e solare soprattutto che decide di lasciare la sua famiglia cioè i suoi nonnini in campagna per trasferirsi in città nella grande tokyo per frequentare le scuole superiori dal suo vecchio liceo in campagna doveva veramente un sacco di amici si ritrova però catapultata all'interno di un ambiente molto freddo ed inospitale ovvero l'istituto meglio scuola alla quale accedono solamente gli studenti delle famiglie più facoltose ed importanti ed influenti di tokyo nella quale tampopo è riuscita a entrare grazie al superamento di un test e soprattutto ad un ripescaggio sarà proprio grazie alla sua forte e solare personalità che riuscirà tampopo a crearsi un gruppo di amici veramente molto stretto ovviamente in tutto il corso della storia un gruppo di amici che riuscirà a stringersi intorno a lei e a proteggerla anche da un ambiente scolastico così in ospitale tampopo infatti non sarà fin da subito ben accetta all'interno di questa scuola e verrà molto spesso trattata proprio come un'erbaccia anche a riferimento al suo nome questo perché tampopo è un termine che indica in pratica l'equivalente del dente di leone un fiore in realtà poco nobile ma che riesce anche a farsi spazio fra le crepe dell'asfalto quindi anche a fiorire all'interno delle difficoltà ma a mio avviso potremmo pensare anche al tampopo al dente di leone come il simbolo del cambiamento nel momento in cui c'è una trasformazione dal dente di leone al soffione che grazie al vento potrà vedere i suoi semi portati molto lontano tampopo si catapulta come un tornado all'interno della vita degli altri personaggi e pianta in loro il seme del cambiamento grazie al quale ognuno riesce a migliorarsi e crescere ma questo cambiamento deve avvenire il momento giusto perché tutti abbiamo la possibilità di sbocciare e quindi di esprimere noi stessi ma forzare questo processo sarebbe inutile a sua volta però anche tampopo verrà travolta ma verrà travolta dall'amore amore che porterà il volto di un suo compagno di classe ovvero kugio personaggio che più di tutti beneficerà dell'involontario potere magico della nostra tampopo e che troverà in lei la sincerità e la schiettezza che non aveva mai trovato prima nel mondo opportunista dell'alta società di tokyo tutto sommato imadoki è una serie veramente molto carina che recapita al lettore dei bei messaggi positivi in modo diretto e molto semplice infatti se dovessi cercare un emblema per questa serie è proprio la semplicità semplicità che a volte può essere però un'arma a doppio taglio questo perché la semplicità ci permette di non sbagliare infatti Yuvatase ci presenta dal punto di vista narrativo il succedersi di questioni una dopo l'altra senza un chissà che chissà quale intreccio particolarmente sconvolgente e tutto questo ci permette ovviamente di non sbagliare cioè all'autore permette di fare le cose con ordine e non sbagliare allo stesso tempo però questa semplicità può purtroppo a volte trasformarsi anche in superficialità perché devo ammettere che alcune tematiche un po' gravi come per esempio un tentativo di suicidio vengono un po' affrontate così en passant con estrema drammaticità in quel momento in cui accadono ma in generale vissute in modo un po' così ecco superato il momento ci si dimentica un po' di quello che è successo infatti anche la semplicità ci mostra alle volte soprattutto i cliché narrativi che vengono utilizzati perché un intreccio un po' più elaborato potrebbe riuscire a nasconderli ma questo non avviene all'interno di questa serie infatti un cliché forse un po' troppo abusato che vediamo in questa serie è quello del triangolo amoroso dove prima l'uno e poi l'altro i nostri personaggi diventano il vertice un cliché che troviamo molto spesso all'interno delle storie romance che secondo me l'autrice è riuscita a sfruttare in modo lodevole è il cliché della rinuncia dell'amore nonostante ci sia un forte sentimento da parte di entrambi infatti yu watase affronta questa tematica in modo estremamente maturo e razionale infatti i due protagonisti della storia d'amore rinunciano al legame rinunciano alla loro storia ma perché lo fanno per fare in modo di crescere perché non vogliono porre il bene della coppia al di sopra del loro bene personale infatti i due protagonisti si allontanano ma al fine di crescere di non rinunciare ai propri obiettivi e di essere una persona di conseguenza degna di stare accanto all'altra proprio grazie alla forza della propria identità e secondo me questo è un messaggio molto bello da lasciare soprattutto ad un target molto giovane come sicuramente quello al quale si rivolge questa serie ovvero non rinunciare alla tua identità nel momento in cui vai a creare una coppia quindi nel momento in cui trovi un fidanzato o una fidanzata non serve che tu rinunci alla tua vita a ciò che vuoi fare alle tue aspirazioni per il futuro solo per stare con l'altro perché se l'altro davvero ti ama un giorno sicuramente vi ritroverete e vi ritroverete ovviamente più cresciuti più adulti e più in grado di stare l'uno accanto all'altro e secondo me questo è un ottimo messaggio che ci lascia yu watase all'interno di questa serie per concludere ribadisco il concetto insomma è una storia molto semplice che lascia dei bei messaggi la semplicità a volte può essere un punto a sfavore di questa serie ma tutto sommato se dovessi contare i pro e i contro di questa serie i pro sono superiori una serie veramente molto carina di intrattenimento con dei disegni molto piacevoli è lo stile della watase purtroppo bisogna dirlo insomma questa serie essendo pubblicata da play press è forse difficile da trovare io devo ringraziare valentina la scimmia blu per avermi venduto questa serie e però non saprei perché non è mai neanche stata ristampata a differenza di ayashi no seres che invece è stata ristampata dalla panini quindi sicuramente c'è devo essere sincera è una serie evitabile è carina ma non ammazzatevi per recuperarla cioè nel senso se la trovate a un euro a volume spendete 5 euro e siete anche contenti se dovete pagarla prezzo di cobertina se siete fan dell'autrice allora sì ma ci sono tante tante altre storie romance molto più interessanti quindi io volevo insomma parlarvi di questa serie perché l'ho trovata veramente molto carina adatta ad un target giovane soprattutto quindi a chi si sta approcciando ai manga come prima come prima lettura alle storie romance e soprattutto un target di ragazze ragazzi molto giovani ecco quindi mi dispiaceva magari che questa serie passasse un po così nell'etere e di conseguenza ho voluto dedicarle a una recensione singola anche perché appunto l'autrice a me piace veramente tanto quindi per questo video è tutto fatemi sapere qua giù nei commenti pensieri opinioni eccetera eccetera per questo video è tutto io vi saluto e ciao ciao grazie a tutti